Ciao ragazzi, ben ritrovati! Oggi giovedì, giorno di aggiornamento e quanta roba ci è stata lanciata addosso Fatemi fare molto velocemente il gioco bonus così prendiamo anche l'ultimo dei bonus Io provo sempre a calciarlo di solito qui, molto forte, in modo tale che anche quando il circhio si alza, rientra dentro Non è andata bene Avanziamo comunque qualche casella, non che ci interessi molto Quindi abbiamo un bel po' di regali da accettare, i player of the week, tante novità A parte questi regali, accordi al buio, c'è rudiche per la campagna, un po' di monete, un altro accordo al buio, accettiamo tutto Tanti premi, ma tanti giocatori col booster ragazzi, mamma mia, ne abbiamo avuti tantissimi E onestamente la storia dell'usare i booster quando il giocatore è in forma tipo A o B A me piace parecchio Dà la possibilità a ogni giocatore di essere giocato Direndolo più forte del normale, però solo in delle finestre di tempo che corrispondono magari alla realtà Quindi mi piace molto Ho visto già che c'è frattesi nei player of the week, ma la verità è che è molto più debbo rispetto a quello che abbiamo noi È un pizzico più forte difensivamente se non erro, ma per il resto sono quasi sicuro che il nostro è più forte E devo dare un'occhiata proprio velocissima ragazzi Se vado nella mia squadra Facciamo molto semplicemente opzioni, elenco, filtro E mettiamo ovviamente la nostra inter Non dovrebbe essere neanche così lontano, frattesi, eccolo qua Il nostro è più veloce Vi rivedete un po' meno difensivamente Ma per me è più forte Per il resto Quindi tengo il nostro onestamente Soprattutto per la questione di velocità, vi dico la verità Più che peraltro Andiamo a vedere un attimo un po' che tipi di contratti ci sono Un po' di roba da accettare Questo qua lo possiamo fare molto velocemente Non mi interessa nessuno di questi giocatori Ci è capitato Ueda Thailandia Quindi la Coppa Asiatica Queste novità non vi nascondo Che sono molto interessanti Sono molto carine Poi ci sta che noi ovviamente Nel lato occidentale Vediamo un po' con Con distacco, no? Questi giocatori al campionato landese Anche se qui per esempio Mi ha uscito Kim Se non giocassi solo con l'Inter Direi che sarebbe una bella, bella presa Uno dei migliori difensori centrali attuali Kim Andiamo a Indonesia che ci capita Non lo conosco ovviamente Prevedibile Abbiamo anche Malesia Tutti i giri gratis Un portiere Ok Quindi quando ci saranno gli eventi per l'Asia Direi che abbiamo abbastanza giocatori per tutto E l'ultimo Dovrebbe essere questo Chansius one Onnipresente Direi che Non abbiamo fido ancora Mamma mia ragazzi Quanti ne sono India India Ci manca Iraq Infatti Infatti Nel senso Se ne è un po' Falsate queste Queste valutazioni Nel senso Che arrivino a 92 Ecco faccio un esempio 92 Questo giocatore Non so dove gioca Come frattesi Per esempio con 92 Campione di Serie A Diciamo che c'è una piccola differenza Che forse andrebbe un momentino rimarcata È solo una Una mia Una mia Opinione Ovviamente E vediamo che altro abbiamo Abbiamo World Wide Clubs E questa era la situazione interessante Questi qua sono nulla di nuovo Potrei prendere questo Mycardi non arriverà mai all'Inter Ma se dovesse arrivare Lo potremmo prendere dal contratto mirato Arriva anche a 91 In finalizzazione Non ha fatto male Quanto tempo c'è ancora? 20 giorni Io voglio decidere Questo è il pacco Che probabilmente interesserà a molti Ci sono un sacco di leggende Per mia sfortuna Ma comunque Sono felice per tanti altri interisti Che magari Non hanno potuto prenderlo C'è Giulione C'è Giulione Praticamente uguale A quello che ho io Perché era senza booster È proprio lui Praticamente Che può Potete Può capitarvi Tante belle leggende Questo Van der Varta Se non è neanche È da dispiacere Ma che va in basta Qui sono tutti belli forti A me è JC Park Per esempio piace tantissimo Come giocatore Mentre non potrei giocare L'Isara Zoo Poi mi sa che non c'è nessun altro Che Sono comunque regalati Quindi Io vi faccio anche il giro gratis Di questi Forse vi vedete il più interessante È un giocatore normale Che non c'è la canzone Spettacolare Molina C'è uscito Direi che abbiamo chiuso Con i giri gratis Tra l'altro scompare il pack Ma benissimo così Niente Io ho molto interessato Nostante da questa cosa Andiamo a vedere un attimo Molto facilmente Lo stato Lo stato di forma Dei nostri ragazzi Per questa settimana C'è la Noglu E Mkhitary Continuano ad essere in B E ci fa tanto piacere Pavar Bastoni In B Chi altro abbiamo in B Frattesi in A Ma l'avevamo visto Perché era informissima Io preferisco Questo frattesi ragazzi Non me ne vogliate Direi che siamo a posto Tra l'altro Lo avrei preso Frattesi Se fosse stato Uno dei ragazzi Con Uno delle carte Con il booster Sarebbe stato interessante Da prendere Però tant'è Noi siamo a 1300 Una buona Situazione Adesso per quanto riguarda I punti Ci fiondiamo Quindi sul primo avversario Scusate L'essermi dilungato Con questi giri gratis Magari Potevate essere interessati A vederli Vediamo Chi è Il primo avversario Di oggi Dopo il nuovo aggiornamento Se possiamo Continuare la striscia positiva Se possiamo mantenere L'imbattibilità Per Per questa terza divisione Abbiamo L'Itad Sempre terza divisione Il tipo di avversario sarà Andiamo a dare subito Un occhio Allo stato di forma Dei nostri ragazzi Come al solito ragazzi Vedo il Ronaldo Tutto ok Direi Nessuno Frattesi Informissima Ma mi sa che ci Capiterà spesso Adesso Frattesi Stasettimana Da giocare Informissima E lo giochiamo E come Aslani C'è quadrato Non so se provare Questo quadrato Superoffensivo Perché poi Il lero difensivo Ne risentiremo sicuramente Vediamo un attimo L'avversario C'è Neymar Booster Sulla sua destra Difficile Questa scelta Ragazzi Non so se Mi pentirò Di quadrato Eventualmente Passaggio alto 93 Maicon 84 Maicon è incredibilmente Più veloce Non lo so ragazzi Penso che lo giocherò Solo se Maicon Dovesse essere giù Probabilmente ragazzi Direi che siamo A posto così Anche dal Il Bondarmian sta bene Andiamo a mettere le marcature Sul Salah Nuovo player of the week Tra l'altro potenziato Abbiamo Mitoma A sinistra Andiamo a mettere le marcature Molto velocemente Ovviamente su Mitoma E su Salah Cristiano Ronaldo Al centro Che è il Cristiano Ronaldo Che si prende con i giri gratis Quelli con il calcio di rigore Giornaliero Quindi Sarà interessante anche vedere Come si comporta Come avversario Ci siamo Sarà l'alità da cominciare Mi pare che sia Andrino che l'autora Erano in buona forma C'è nel senso Col verde Guarda che per un pelo Non mi va Prendo sto pallone Poi Salah Bravissimo Di nuovo Mamma mia Ah peccato Qui Griezmann Fa un grande intervento difensivo Bravo Maicon Che arriva Palla al piede recupera Serve Frattesi Sulla sinistra Frattesi Bravo Frattesi Guadagna il fondo Il cross al centro L'hanno anticipato Qui Come vedete La marcatura Funziona E come Poi per Frattesi Di nuovo Cercare Maicon L'anticipo È perfetto In questo caso Anche la finta Tra l'altro Il nostro avversario Puoi pavare Evitare problemi Vada Adriano Vediamo se Vediamo se il lancio Arriva a destinazione Qua l'1-2 Che non funziona Poi Frattesi Ancora Al recupero Di nuovo L'1-2 Stavolta lo sto forzando Un po' troppo Ragazzi Lo sto veramente Forzando troppo Poi Frattesi Al recupero Buono Buono per Maicon Che ha tanto campo Può mettere il cross Al centro Troppo su Provedel Tra l'altro Scelta interessante Come portiere Devo essere onesto Inter che spinge Molto su quella fascia Di Destra Dove c'è per l'appunto Il nostro Frattesi Bravo Qui Ciala Non senza qualche difficoltà Riesce a tenere il pallone Poi Cercare l'autaro La chiusura perfetta Qui di bastoni E sempre per l'Inter Con Cialanoglu Che smista Ancora per Di Marco Che guadagna il fondo Di nuovo il cross Al centro Adriano Anticipa Il difensore Ma la palla Finisce di poco a lato Inter Pericolosa Stavolta Con un bel tiro in porta Occasione importante Per i neri azzurri Ah Frattesi Che non ci arriva Non ci arriva veramente Per un pelo Vittorio Hernandez Partito velocissimo Attenzione a Griezmann E c'è il gol Di Cristiano Ronaldo In un fazzoletto Primo tiro in porta Il nostro avversario E c'è il gol Altriano che provasse Dall'altro lato Barella Anticipato Mamma mia che anticipo Non ci Ah infatti era fallo Non ci credo Che intervento ha fatto Come ha fatto A non prendere il giocatore Lo vorrei rivedere Questo Ce lo farei vedere anche lui Prende prima il giocatore E poi Perché doveva andare Col piede destro Ad allungarsi Prende prima Lautaro E poi E poi Il nostro avversario Celanoglu Alla battuta Mamma mia Che parata Ci ha fregato Con il movimento Del portiere Erroraccio Di Celanoglu Dal dischetto Cercare dall'altro lato Bastoni Come sempre Ragazzi E addirittura Esce Provedel Sicuro in uscita Dall'altro Bravo Ciala Per l'apito Il fallo No No ragazzi Pavar Dorme Poi Si recupera questo pallone Una palla spazzata Ma male Tiro Deviato Praticamente Sullo stesso Sul suo stesso Compagno E allora Maicon Che alza Per Adriano Mamma mia Se fosse passata Questa palla Dai Dai Lauti Di nuovo Per Adriano Calcia col sinistro E non sbaglia Adriano Al 27esimo Una pareggia Brutto errore In fase difensiva In uscita In uscita Della Littad Ancora Lauti Con un grande anticipo A servire A servire Barella Si distende L'Inter Centralmente Si fa vedere Frattesi Che ha Spazio col destro Mi ha fermato Quella palla Veramente da sotto i piedi Tirata Attenzione Adesso Animar Centralmente Di Marco In chiusura Cercare Ciala Che ovviamente Non si propone Qui Bravo Di Marco L'anticipo Allora l'Inter Oh mio Dio Ragazzi Che brutto errore Per fortuna Bastoni Rimedia Poi Di Marco Si cambia Si va da Frattesi Bravo Lautaro di prima Poi Cialanoglo Cercare Adriano Ancora Bastoni Sta facendo Una partita Clamorosa Salah Poi si distende Centralmente C'è Neymar In mezzo A due Il numero Il Nancin avanti Per Cristiano Ronaldo Fuori gioco E meno male Perché Cristiano Ronaldo A contropare Da dove Tira Tira Fa Gol Sembra un po' Rischioso Darla vicino Prova ad andare Da Adriano In avanti Farà spondo Al brasiliano Contro Bastoni Sarà dura Però Riesce Non era per lui Ma era ovviamente Per Maicon Che va Che va tanto campo Bravo Pavar Recupera E spazza Frattesi che Prolunga Ma il passaggio È sbagliato Bastoni In uscita L'1-2 Centrocampo Mamma mia Non riesce Non riesce L'Auti A farla passare Sta palla Bravo Frattesi che Gran recupero Incesi Si spiega un po' Col pallone Poi Adriano Comunque riesce Ad andarsene Si vede Si fa vedere L'Auti Di prima Cercare C'è la Noglue Mamma mia Qui forse C'è fallo Ancora una volta Ma di vi Vedo Non è scivolata Da fallo È scivolata Da passaggio Questa Fermato Da Maicon Partita Comunque Molto Aperta Quora L'1-2 Poi Frattesi Che è tua E stavolta Invece Con la scivolata Riesce A fregarci Fallo Qui Bastone In ritardo In realtà Direi che forse Il fallo È stato Buono Per noi Partita Molto Veloce Sembra ci siano Tanti spazi Dobbiamo giocare Un po' meglio Ripartenza Secondo me Deviata Dalla Per La punizione Di Griezmann Sarà Calcio D'angolo Per l'Ali Tad Attenzione Cristiano Ronaldo Di Marco In anticipo Su tutti Spazza Quartantasettesimo Non c'è più tempo È 1-1 A Cristiano Ronaldo Ha risposto Atriano Sarà l'Inter a ricominciare Guarda questa palla Che non passa Bella Bella questa pinta di Di Non so chi era Chi il Mick Mamma mia Quest'1-2 A cercare L'Auti Non ci credo Non riesce A calciare L'Auti Bravo Frattesi A cercare Questo anticipo Mamma mia L'Auti È qui Ragazzi Dimmi noi Se questo ragazzo Non è fortunato Mannaggia La misera Ragazzi Assurdo Attenzione al Varco Sulla sinistra Deve andarci qualcuno C'è Salada Solo Bravo Ce l'ha a dare una mano Poi Di Marco Lo serve Riparte Proprio C'è la Noglu Con l'esterno A cercare Frattesi Che lancio Sublime Il passaggio Divieto Ma c'è comunque Adriano E Teo Hernandez Però Lo frega Arriva Maicon A cercare L'Auti Per Adriano Di nuovo Adriano 2 a 1 Ragazzi Abbiamo fatto Una giocata Con Lautaro Prima Con il dribbling In mezzo A 2 Che è stato Veramente un peccato Non riuscire a segnare Ancora Maicon All'anticipo Cercare Frattesi Mamma mia Per un piede Non riesce a tenere Questo pallone Poi Maicon invece Sontuoso Se la riprende Cercare l'Auti Dall'altro lato Ma C'è Rudiker Che sovra sta L'argentino Palla centralmente Attenzione C'è Bello questo lancio L'idea era carina Perché Anche io ho notato Che Di Marco Era fuori posizione Lui è stato intelligente Però Bastoni Ha fatto Il mestiere del difensore Ha fatto Passare la palla E Finita di rimessare Rimessare al fondo Non pare che l'avversario Abbia addirittura Abbandonato Troppo tanto tempo Di caricamento Comincio a pensare che Abbia abbandonato Ma non so se Si sta Fregando la connessione O è il solito E-football Che ci mette Una vita Mamma mia Quanto tempo Ragazzi Schermo Andato via Ancora caricamento Avremo i nostri punti Sì Oppure no Non l'ho capito Ragazzi Non vorrei che sia Non vorrei che ci fosse Qualche problema Col server di football Con Che ci dà O la partita nulla O comunque ci ha cacciato fuori Immaginate Oltre al danno alla beffa Che risulta che siamo noi Quelli che Hanno Hanno Abbandonato Quello sarebbe un bel danno Una partita Ragazzi Comunque Che Secondo me A mio avviso Meritavamo di vincere Un paio di errori sottoporta Tra La corsa di Lautaro Time out del server Ragazzi Ma come time out del server Eh questa non è una bella cosa Spero Spero Quanto meno Non ci abbiano tolto i punti Ragazzi Spero solo Che non ci abbiano tolto i punti Davvero È l'unica cosa Che spero Non fa niente Se non abbiamo vinto Ci abbiamo fatta? Forse sì Forse no Allora ragazzi La connessione La mia connessione Vi faccio Un controllo al volo È Perfettamente funzionante Perfettamente funzionante La connessione Quindi Hey football Ragazzi Senza ombra di dubbio E quindi niente ragazzi Mi sa che restiamo così Con Con il dubbio Se i punti li abbiamo presi o no Volevo farvele vedere Però non voglio ovviamente Tediarvi E lasciarvi con questa schermata Troppo tempo Ce l'ha fatta? Non ce l'ha fatta Quindi ragazzi È nulla Nulla Restiamo con un nulla di fatto Vi faccio sapere poi magari Nei commenti Se abbiamo preso questi punti no Ma comunque lo vedrete Nel prossimo episodio Dal riepilogo È tutto per il primo episodio di oggi Sperando che ci sia la possibilità Di farne un secondo Io vi ringrazio per aver guardato E ci vediamo alla prossima